Siamo con Mario Siloni, dirigente dell'Istituto Professionale Telese. È iniziato un nuovo anno scolastico. Sì, speriamo un anno scolastico che sia diverso dagli ultimi, che sia contraddistinto appunto da una gestione diversa del Covid. Già è così, infatti noi entriamo abbastanza irregolarmente con alcune raccomandazioni di genere generale. Quindi è un anno in cui, come dico io, riprendiamo un percorso che è stato interrotto negli ultimi due anni e mezzo. Non è poco. Siamo consapevoli di questo e quindi ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze intendiamo dare veramente meglio. Quest'anno il tema centrale della nostra iniziativa didattica abbiamo deciso di chiamarla così, dalla parte della natura. Ahimè, restano i problemi del nostro istituto, la carenza di aule. Io ho fatto un appello accorato dicendo che spesso si viene a Telese, si vanta la sua eccellenza, il fatto che abbiamo dato tanti schitani famosi che vengono dal nostro istituto, eppure sono vent'anni che non si riescono a trovare quelle quindici. Mi accontenterei anche di dieci aule che ci consentirebbero di avere un respiro più sereno, un'organizzazione più tranquilla. E spero che quest'anno ci sia una svolta. Io dico che l'assenza di aule dell'istituto di l'ESO è la vera emergenza dell'edilizia scolastica a Dischia. Non tanto per il numero, ma per il fatto che sono vent'anni. Cioè nel senso che, insomma, dopo tanti anni, veramente qualcuno dovrebbe farsi una domanda, ma è possibile, la dico in maniera anche un provocatoria, a Dischia si è costruito di tutto, ma non si sono trovate le aule veri Telese. E quindi come affronterete queste criticità? Le criticità le affrontiamo come abbiamo sempre fatto, con intelligenza, sobrietà, contando sulla serietà e dell'impostazione del lavoro dei nostri ragazzi. Faremo rotazioni e doppi turni, cercheremo di ridurre l'impatto. Vorrei dire una cosa. Noi siamo una scuola che ha vissuto sempre questa difficoltà. Però mi piace dire. Ieri proprio ho ricevuto una lettera di una docente di un istituto tecnico per il turismo lombardo, ospite di una struttura belghera prestigiosa a Ischia, dove ho incontrato i nostri ragazzi che facevano stage. Questa professoressa ha ritenuto giusto mandarmi una lettera in cui si congratulava con me e con i ragazzi per la professionalità con cui questi nostri studenti che stanno facendo gli stage per il PCTO in questa prestigiosa struttura di Ischia si erano comportati. È un riconoscimento che mi fa piacere dare soprattutto ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze che esprimono sempre una buona qualità sia dal punto di vista della professionalità sia dalla capacità di relazione e di studio.